Dopo qualche anno torna Ambiente e Territorio a tavola con il produttore, la ripartenza, questa è la parola simbolo di questa nuova edizione. Sì, chiaramente tre anni di fermo, non potevamo usare questo termine migliore perché comunque tre anni non sono pochi, sono stati complicati, difficili, soprattutto i ragazzi sappiamo perfettamente che sono stati coloro che hanno risentito più di questa pandemia. La ripartenza proprio perché comunque è straordinario il modo con cui riusciamo di nuovo a ripartire e di questo ne sono assolutamente felice e ribadisco comunque la mia ferma volontà di continuare anche dopo le parole qui del sindaco, l'assessore Galizia che come al solito come amministrazione, come comune non mancheranno all'evento di domani, così come tutte le università agrarie, le amministrazioni che da Tarquigna, Tolfo a Lumiere e Santa Mariela saranno presenti per un evento secondo me davvero unico anche perché le sue università agrarie rappresentano più di 20.000 ettari e questo manifesto non è presente in nessun'altra parte d'Italia, questo coinvolgimento di istituzioni, scuole, aziende, professionalità è davvero unico con il chiaro intento di promuovere la conoscenza delle produzioni che sono importanti anche qui da noi. E' importante il vostro contributo con le ragazze dell'istituto che stiamo vedendo pronte già per domani, quindi è un'importante occasione per voi. Noi abbiamo aderito con grande entusiasmo a questo progetto dal produttore al consumatore, a tavola con il produttore la ripartenza per la promozione del nostro territorio e dei suoi prodotti in quanto il cibo del futuro sarà bio local con prodotti locali, stagionali, regionali, a chilometro zero, a chilometro vero. Vogliamo seguire le nuove tendenze del cibo e del gusto portando in tavola i prodotti di eccellenza del nostro territorio e non utilizzando in cucina prodotti sintetici quali latte e carne ottenuti in laboratorio o farine di insetti. I nostri ragazzi hanno dimostrato di sapere coniugare saperi e sapori, tradizione e innovazione.